Ho fatto quel salto lì, quel colpo di testa, poi ho fatto una corsa, penso che se era la curva nord aperta correvo fino a Ponte Emilio, non mi fermavo mai. Dai ragazzi veramente diamo tutto che possiamo dare per portare almeno dopo un anno non positivo un grande trofeo a casa. A Milano mi sono fatto male, però volevo fare tanto e tutto, essere là, almeno nella panchina. Volevo sentire l'atmosfera che hanno creato i nostri tifosi. Il primo tempo 0-0, poi mi ha detto mister vai a riscaldarti, ho detto dai forse anche entro. Devo fare tutto, devo aiutare i ragazzi per portarlo a casa. Dopo due minuti ho fatto quello gol che non dimenticherò mai. Poi ho pensato a Ketuku confermare la vittoria. E andare a casa tranquilli con la poppa. e anche quest'albe alla panchina. Puoi. Luca. Puoi. 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 Grazie a tutti.